Allora, ciao a tutti, io sono Arianna Sakurari-Mossotti e niente, ho una pagina di recensione di libri game dove recensisco anche altri libri, principalmente recensisco libri game soprattutto di autori emergenti italiani. Tempo fa ho chiesto, un annetto fa circa, Kerm Lorenzo, di iniziare magari a fare un qualcosa di libri game ma anche su Twitch con lui e abbiamo iniziato e poi da lì, da cosa nasce cosa e sostanzialmente abbiamo deciso di scrivere insieme a Marco Zamanni che è l'autore di Coupe Vampe uno spin-off del penultimo libro, il penultimo racconto che c'è su Coupe Vampe ovvero il giorno del libro game ricomincio dall'uno. Abbiamo preso uno dei personaggi dentro a questo libro game, ovvero Mario Diavolacci e abbiamo tirato fuori questo che è il nostro libro game che è stato scritto non solo da me, Kerm e Marco ma anche da tutta la chat di Twitch, quindi sostanzialmente loro davano le idee e noi raccoglievamo, abbiamo creato l'albero in live e poi in background abbiamo poi scritto il tutto. Come avete lavorato? Avete lavorato con Twine, con cose simili? Abbiamo lavorato con, praticamente è il server che da Libro Games Land e l'abbiamo praticamente prima messo giù, diciamo un po' a caso su Paint in live è uscito poi una roba oscena però in live siamo riusciti a fare questo dopodiché abbiamo lavorato su questo server di Libro Games Land che è molto utile per chi vuole scrivere Libri Game perché ti dà direttamente i rimandi te li rimescola lui, scegli quali non rimescolare, tutto quindi è molto più semplice rispetto a fatto a mano. Allora, ricordami il sito dove recensisci i Libri Game così lo mostriamo anche quello. Si chiama Noi Leggiamo Noi trattino a basso leggiamo puoi trovarlo sia su Google che è NoiLeggiamo.com oppure su Instagram che è la pagina principale e... eccolo qua. Bene e qua tu recensisci Libri Game Allora, questa è una... allora il nostro blog è stato fondato in un certo senso sia da me e da Barbara che la pagina è nostra e di NoiLeggiamo ma qui troverai anche recensioni di altre ragazze perché abbiamo fatto questo insieme per unirci tutte insieme e fare un po' di tutto per esempio io non leggo horror mentre c'è una ragazza infatti lì vedi chi siamo ovvero Puzzle Cobb abbiamo diverse persone che comunque abbiamo Brunella abbiamo Sara ognuno di loro legge anche altri genere quindi per riempire un po' il tutto per non far mancare ai nostri lettori nulla mentre questa è la nostra pagina Instagram dove trovate solo me e Barbara e io prediligo i libri gay ma adesso ho trovato un po' di tutto che figata no, è molto bello allora sono... tra l'altro non so se hai visto la lettura in questi giorni è un tema che sto cercando di rendere proprio centrale sul canale infatti abbiamo lanciato il book club del futuro fate anche punto esclamativo futuro e se state vedendo questo video su YouTube sapete che ogni volta che dico fate punto esclamativo qualcosa voi potete venire sul canale Twitch anche se è offline cioè anche se non stiamo trasmettendo potete venire sul canale Twitch se passate lì lasciate un follow che fa sempre bene e potete fare i comandi e vi appaiono tutti i link a cui facciamo riferimento e attenzione sento che è arrivato oh ciao eccomi scusatemi per il ritardo ma qui sta esplodendo la CPU di questo PC e devo capire perché non appena avvio una roba che non gli piace si rizzela tutto quanto e perdonatemi il ritardo ma figurati non lo so guarda non esiste... amico non esiste ritardo siamo i padroni del nostro tempo rivendichiamolo vai mega tranquillo bene bene così allora beh presentati anche tu a questo punto e poi cominciamo allora buongiorno a tutti io sono Kerm ovviamente è un nome d'arte perché all'anagrafo New Star Dance 2000 no scherzo Super Saiyan 69 420 è il nome che avevo a mio figlio Super Saiyan no allora sono Kerm appunto collaboro con Arianna ormai da un annetto a questa parte perché? perché ho un canale Twitch sul quale che è Kerm Talks Kerm trattino basso Talks in realtà proprio se vogliamo essere proprio precisi 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 e come dire composti nel quale il canale è fondamentalmente incentrato sul just chatting su come dire talk su tante grazie per il foto non è male questo è altro che alert questo è quello che dovete fare quello che dovete fare dovete andare su questa pagina e mettere follow è bellissimo come si veda nella penultima live l'ultima che abbiamo fatto insieme io con la Barb si si vabbè appunto perché che cosa succede io con questa signorina qui che è Arianna gestiamo praticamente delle live di Libro Game da sua proposta in realtà un anno fa arriva e mi dice guarda io sto con noi leggiamo sono entrata in contatto con questo mondo di autori case editrici che si occupano di Libri Game secondo te può essere un contenuto carino da portare anche a schermo in live e quant'altro abbiamo fatto delle prove abbiamo trovato la nostra modalità diciamo di giocare a Libri Game in live e devo dire che la cosa sta anche piacendo parecchio a quella che è la nostra community e alle varie community di persone che sono ospiti che vengono a giocare da noi o chi ci trova insomma anche un po' per caso per varie combinazioni ed è una cosa che ci diverte tantissimo sono tra le live fammi dire più divertenti che faccio ma proprio per quello che succede effettivamente con le alchimie che si creano a schermo c'è tanta tanta bella roba tanta tanta bella roba e siamo molto 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 soddisfatti e appunto poi il canale in realtà ha anche altri focus di just chatting portiamo anche un minimo di gaming perché io non sono un grandissimo videogiocatore ma sto recuperando dei titoli diciamo imprescindibili però insomma fa sempre sempre piacere quando il giovedì ci mettiamo lì e apriamo un libro e iniziamo a giocare tra deliri vari e meme che nascono e meme che nascono una maniera forse non ortodossissima di affrontare i titoli ma che comunque funziona e dà anche risalto a quelli che sono autori cioè sono molto soddisfatte le persone di cui abbiamo portato un libro in live devo dire la verità e abbiamo avuto dei buoni feedback anche tra addetti ai lavori bello ottimo bravo che sembra quasi che si è abituato a parlare davanti a una webcam e a un microfono sembra eh sembra non l'avrei mai detto non l'avrei mai detto sembrava 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 no è tutta una finta in realtà è tutta una finta adesso chiamo quello vero però guarda che Twitch è bellissimo cioè quando la gente mi chiede com'è streammare su Twitch dico sempre che è la scuola della faccia tosta nel senso impari impari a parlare è una roba è un corso è tipo Tana delle Tigri del parlare in pubblico quindi parlatemi di che giornata diavolacci che giornata diavolacci che giornata che giornata davvero allora inizio come al solito abbiamo sempre questa l'abbiamo provato conta che un pezzo l'ho già detto però se vuoi ridirlo visto che non c'eri ok hai detto già un pezzettino allora vabbè mi argancio proprio all'ultima cosa tanto su Twitch tanto su Twitch la gente va la gente viene ripetita Juvent su Twitch puoi vai tranquillo da capo allora proprio arganciandomi all'ultima cosa che ho detto abbiamo avuto il feedback positivo e la stima di molte persone addette ai lavori tra cui un autore di cui abbiamo portato diversi titoli ovvero Marco Zamanni che sul panorama italiano è anche abbastanza come dire affermato e proprio in relazione a uno dei titoli suoi che abbiamo giocato in live è venuta fuori l'idea di provare a scrivere o quantomeno strutturare a livello di albero a livello di intrecci a livello di idee messe in campo un libro game scritto con la community di Twitch e con la community noi leggiamo ovviamente che inizia a seguire le live su Twitch per cui nel corso di due live preparatorie abbiamo iniziato a mettere in campo delle idee anche ad analizzare proprio quali sono le strutture dei libri game quindi era un modo anche per parlare di una anatomia del libro game su come è fatto come si struttura come si scrive a cosa bisogna pensare nel processo di azione aspetta un secondo che parlo così faccio vedere il libro da cui abbiamo perché se no prova prova mi fai vedere ecco quello è il libro appunto da cui siamo partiti con una raccolta in realtà di quattro libro game noi abbiamo preso in esame uno dei quattro ovvero il giorno del libro game ricomincio dall'uno e siccome come dire era nato una sorta di meme una sorta di interesse attorno a un personaggio secondario di quel libro è stato diciamo quasi quasi scontato in centrare la storia del nostro libro game proprio su Mario Diavolacci questo portinaio ripeto che non è un personaggio principale del il giorno del libro game ricomincio dall'uno ma che aveva aveva molto colpito diciamo l'audience anche per questo suo possedere un piede di porco allora che cosa ci farà dove se l'è procurato perché come quando e così e allora abbiamo deciso di incentrare la storia sul ecco là il piede di porco è un meme del mio caso io ho un emote con il piede di porco cioè per intenderci quanto è andata trasversalmente questa cosa del piede di porco e quindi abbiamo iniziato a strutturarlo poi ovviamente è stato fatto un lavoro offline di scrittura perché in live siamo riusciti a strutturare l'albero appunto quindi i vari bivi le varie scelte ma soltanto praticamente di una parte poi andando a rivedere anche i VOD devo dire Arianna si è messa lì ha ritrovato anche tutte le idee che erano state scartate per poterle mettere nelle altre nelle altre strade possibili ed è venuto fuori che giornata dei volacci su cui poi abbiamo lavorato fattivamente io e Arianna con la supervisione ovviamente e con l'apporto anche tecnico perché ci sono stati dati anche i mezzi diciamo digitali per poter essere più comodi nella scrittura del libro game fondamentalmente e il libro lo potete trovare sia in versione cartacea su Amazon sia in versione digitale in quella digitale abbiamo per fortuna Marco ci ha dato una mano in questo abbiamo tutti i rimandi quindi quando vi dovete spostare da un da un paragrafo all'altro basterà schiacciare col dito invece di smattare per andare esatto Siffia dice ma quello è un germo se vi siete appena connessi o se è la prima volta che capitate qua questo è che no mattina tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle otto e mezza a mezzogiorno circa oggi sono ospiti da me Arianna Mossotti e Lorenzo Dottorini autori insieme alla community dei dei loro canali di che giornata diavolacci insieme anche a Marco Zia esatto insieme a Marco Zia Marco comunque ha dato una grossa un grosso aiuto diciamo ripeto anche da un punto di vista tecnico perché ci ha dato gli strumenti per capire come si scrive un libro game fondamentalmente in quelle due live che abbiamo fatto insieme e poi anche proprio degli strumenti tecnici come non ricordo mai il portale di libro games land il portale di libro games land che è una una roba fichissima praticamente browser source in cui non solo riesci a scrivere in maniera ipertestuale i vari paragrafi megabook web editor no megabook web editor megabook dovete sapere che io sono quella che legge i libri game ma io non leggo come Savo Ed perché lui è bravissimo a leggere io no io sbaglio un sacco di cagate quindi niente tutto molto bello è questo che trovo qua succede sì esatto sì esatto esattamente ed è un portale fighissimo perché ti permette di scrivere la storia in maniera dinamica quindi di strutturare già la paragrafazione già i vari snodi quindi i vari collegamenti ipertestuali di paragrafazione e poi di poter rimischiare l'ordine dei paragrafi che magari sono stati scritti in successione perché è importante farlo per una miglior fruibilità del testo senza andare a come dire mischiare le carte su quelli che sono i rimandi quindi se per esempio quel paragrafo diceva paragrafo 15 diceva se vuoi continuare per questa strada vai al 16 nel momento in cui vai a mischiare il 16 diventa il 31 si modifica automaticamente il fatto che lì ci sia scritto 31 anziché 16 figo KS Gaming Life che è Stilger in questo momento dice posso dire questo per me che è un enorme onore essere stati presenti la sera in cui l'avete pubblicato avete fatto una gran cosa ragazzi con congratulazioni a questo punto combo completa che mi conosce dice pensa di scriverne anche uno anche lui che nobita in live no allora in realtà io ho c'è una cosa che stiamo facendo io e il dottor Pira su questo fronte ma non è esattamente un libro game il nostro obiettivo è pubblicarla nel 2022 uscirà nel 2047 ok però la stiamo la stiamo facendo se nel 2047 avrò ancora la pagina e avrò ancora gli occhi per leggere se vuoi mandarmelo da recensire io sono disposta è disposta e quindi come allora se io lo voglio comprare dove lo si può comprare su Amazon perché è print on demand immagino esatto 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 è un print on demand quindi c'è la versione cartacea e la versione ebook tra l'altro per gli abbonati Kindle Unlimited è incluso nell'abbonamento stesso quindi lo si può ottenere anche in questo modo qui comunque sì è su Amazon perché a conti fatti ci abbiamo perso anche molto tempo diciamo a capire come uscire diciamo in pubblicazione e la questione del print on demand dava chiaramente delle agevolazioni in più al di là del maggior controllo e quant'altro magari che non avremmo avuto in casa editrice qualora una casa editrice avesse voluto pubblicarci perché non era neanche scontato che succedesse la versione chiaramente print on demand dava la possibilità veramente di stampare copie su commissione quindi non sapendo quale potesse essere la gittata quale potessero essere la tiratura improbabile di fruizione era meglio insomma affidarsi a un servizio che le stampasse proprio su commissione e quindi sì su Amazon lo so purtroppo spesso si va a morire lì sopra perché una roba come il print on demand è comodissima è comodissima mi piacerebbe molto se ci fosse un servizio simile anche non Amazon però per il momento mi risulta che ci sia solo quello ce ne sono ce ne sono sono in un certo senso svantaggiosi nel senso che magari hanno maggiore qualità ma per chi comunque compra magari delle spese di spedizione molto alte quindi spesso si ne vorrei uno in Italia ne vorrei uno in Italia sarebbe comunque no perché anche io sto sto ragionando cioè stiamo per stampare delle cose e volevo capire qual è il modo migliore anche per poi il vantaggio del print on demand è che voi non lo dovete spedire cioè io lo compro Amazon stampa e me lo spedisce gpmail dice spesso sono editori a pagamento ed è un ambiente da cui tenersi molto lontani mamma mia è quello purtroppo sì il mondo delle case editrici per quanto io comunque sia a contatto con tantissime case editrici non sempre cioè dipende sempre da che prodotto vuoi fare e ci sono tante case editrici che sono bravissime e te le fanno diciamo non mettendo un costo a monte quindi tu non paghi per pubblicare hai la percentuale che la case editrice si prende quelle che comunque si fanno pagare prima tantissime comunque cioè sono sconsigliate perché ci sono un sacco di case editrici che lo fanno senza che tu debba pagare per farti pubblicare che sì insomma chiaramente poi lì vai lì vai soggetto anche a una selezione a monte perché non possono pubblicare tutte le idee che tutti i progetti che gli vengono proposti e quindi devono fare anche dei ragionamenti di mercato sulla vendibilità del prodotto quindi legati anche al oltre alla qualità intrinseca anche a quello che può essere il tuo nome o il genere anche molte case editrici sono proprio legate al genere quindi ci sono le case editrici romance se tu hai scritto anche un bellissimo libro ma che non è romance quella casa editrice non ti pubblicherà mai perché loro sono dediti a quello esatto poi io tra l'altro penso anche che nel nel presente il concetto di farsi pubblicare a tutti i costi è un po' è quasi sbagliato nel senso che ci sono alcune case editrici che ti pubblicano e poi non fanno niente nel senso la funzione di una casa editrice dovrebbe essere anche la distribuzione la promozione eccetera l'editing perché loro praticamente si prendono una parte cioè la parte che tu dai a loro che è maggiore rispetto a quello che può essere un print on demand è dovuto al fatto che loro ti fanno dei servizi che tu altrimenti dovresti farti da solo come l'editing come il beta reading come magari le illustrazioni se ce n'è necessità la copertina dipende tutte queste cose qua sono comunque della casa editrice purtroppo ci si imbatte spesso in un sacco di case editrici che sono nate però alla fin fine non fanno il loro lavoro ed è sempre brutto perché comunque è il tuo lavoro che non viene poi rispettato da quell'altra parte che in teoria dovrebbe ma infatti ti dico io ho io credo molto nel DIY nel fai da te perché penso che da un lato ci siano più soddisfazioni e dall'altro ci siano anche più più margine per per guadagnare magari qualcosa di ragionevole con un con un lavoro fatto vabbè ma queste sono tutte questioni quasi in realtà è interessante perché comunque cioè che giornata diavolacci è interessante perché un libro game è interessante per come è nato e secondo me è interessante e da supportare anche perché è un progetto nato con una modalità particolare è stato scritto insieme su twitch cioè veramente ogni volta che vedete qualcosa di simile io se avete modo vi invito a a supportarlo e ci sono vari modi per supportare cose simili perché magari uno dice a me non me ne frega niente dei libri game non c'è voglia però magari conoscete qualcuno a cui regalarlo e si fanno tante cose in economicon dice il diy ha tante difficoltà ma se ci riesci hai molta più libertà e molti più margini di guadagno esatto gp mel che che hai una hai una libreria gp mel me lo sono sognato o no dice spesso no aspetta dice angolo del libraio nerd il 98% dei libri pubblicati non raggiunge le mille copie vendute e tra l'altro questo è un discorso interessante perché sembra poco non raggiunge le mille copie vendute ma se io scrivo un libro lo pubblico diy e ne vendo mille copie io ho guadagnato quello che mi serve guadagnare per otto mesi e posso poi investire nel vabbè comunque sta diventando un discorso sull'autoproduzione e invece allora domanda importante perché visto che magari qualcuno lo vorrà regalare giocare qual è il target nel senso è una cosa per adulti è una cosa per ragazzini è una roba per bambine allora in realtà è per tutti ci sono alcune alcune run perché diciamo la bellezza del libro game è il fatto che non sta nel numero delle pagine ma in quanto tu ti possa divertire a rifare le strade e scoprire cose diverse noi abbiamo diversi finali abbiamo in fondo al libro game come nella maggior parte dei libri anche di Marco una adesso ve lo faccio vedere una griglia di valutazione a punteggio vediamo se si vede si vede si vede si vede si vede e quindi in base al punteggio che voi avete accumulato prendendo le parole chiave prendendo da dove arrivate eccetera avrete un punteggio ci sono alcune persone che hanno fatto il punteggio massimo che è 40 ci sono persone che ha fatto meno 5 e noi li vogliamo bene a tutti perché hanno potuto sperimentare diverse cose tenete conto anche che non c'è una necessità di conti calcoli cose particolari perché non ci sono lanci di dado c'è solo da segnare le parole chiave quindi diciamo la regolamentazione è abbastanza semplice e qualche enigma ma roba fatemi dire stile settimana enigmistica nella misura in cui appunto c'è un un'immagine un un qualche cosa di scritto su cui bisogna arrivare alla soluzione quindi nulla di troppo cerebrale o macchinoso ecco occhio a dire settimana enigmistica perché io non ho mai risolto un quesito della si usa in vita mia non ti preoccupare noi abbiamo portato in live un libro game per target 12 anni e in realtà abbiamo scoperto che lo devi giocare per 12 anni per riuscire a risolvere gli enigui perché io di solito prima li leggo e poi decidiamo se portarli in live eccetera questo qua mentre lo leggevo dicevo ma io ho 27 anni e non riesco a risolvere un libro che è per i 12 anni c'è qualcosa che non va mi sono sentita estremamente stupida in quel momento e poi ho detto proviamo vediamo ed eravamo in 8 in live e ne abbiamo risolti due 8 tutti i trentenni insomma voglio dire più o meno tra i 25 e i 35 e non ci siamo non ci siamo riusciti non è chiaro non è chiaro intelligentissimi sono GM non si è capito non si è capito ci sono persone che hanno fatto il punteggio minimo tipo noi in live da Kermo quando è stato presentato sì c'è stato anche chi ha fatto il punteggio minimo però ecco per dire è un libro molto molto trasversale e può essere fatemi dire questo anche un entry point per qualcuno che non conosce proprio il mondo dei libri game perché avendo questa struttura molto semplice basata fondamentalmente soltanto su voglio scegliere questo piuttosto che questo oppure piccoli indovinelli e segnare le parole chiave che è più un meccanismo di controllo dei vari trigger che accadono nell'avventura come ci sono anche il lupo solitario esatto come ci sono anche il lupo solitario secondo me può essere un ottimo modo anche per far approcciare o per approcciarsi per la prima volta a questo mondo e da lì puoi partire andando a scoprire nuovi libri nuove strutture proprio di game design perché possiamo parlare proprio anche di game design in alcuni casi allora Dark Shadow dice ci tengo a fare il bastian contrario e ricordare che in Italia ed è verissimo abbiamo parlato dei grandi editori e io ho espresso le mie perplessità sui grandi editori però è anche vero che c'è un sottobosco straordinario di piccole e medie case editrici che fanno cose bellissime anche a dispetto degli abissi del cartello delle grosse case editrici e delle case editrici a pagamento così su due piedi mi viene in mente FQ edizioni mi viene in mente asterisco edizioni mi viene in mente di editore così dirne tre tre caso se vuoi io posso avviare tantissimo perché la maggior parte noi ci occupiamo come idee immagine di essere altro poi vabbè tutte le case editrici dei libri game ce ne sono veramente Astro Edizioni Acheron c'è la corte editore che è forse quella un pochino più grande ce ne sono tantissime noi ci occupiamo principalmente di piccole e medie case editrici proprio perché comunque le grandi case editrici non hanno bisogno di pubblicità perché tanto sono già conosciute ovunque sono in libreria e li trovi più o meno dappertutto e sono conosciuti effettivamente mentre a noi invece piace aiutare aiutare che poi non hanno bisogno di aiuto perché poi se un prodotto vale lo si conosce però cercare comunque di dare una visibilità maggiore a queste case editrici perché hanno alcune cose sono veramente fantastiche che scrivono trovate dei piccoli gioielli io mi sono proprio resa conto noi abbiamo aperto Barbara ha aperto la pagina a marzo dell'anno scorso io sono entrata a luglio dell'anno scorso 2020 due anni fa oh il tempo che passo comunque quando sono arrivata a leggere a decidere ma facciamo prediligiamo le cose italiane così mi sono resa conto che se prima trovavo quasi solo libri inglesi americani tradotti quando mi sono resa conto di quanta roba c'è italiana ho detto parca miseria ma quanta roba non ho letto che ce l'avevo qua sotto il naso non me ne sono mai resa conto vedi l'Italia c'è tantissima roba e anche dei gioielli meravigliosi che sono fantastici però magari non sono così immediati come tante altre case editrici enormi e invece ne vale proprio la pena comunque guardarle dire ok leggo anche un po' di queste cose qua perché sono italiani sono piccoli però ci sono proprio dei gioielli che sono magnifici c'è tanta il fatto è che quando sento la gente che si lamenta una volta c'erano le robe più belle una volta così io dico no ti stai informando male nel senso se mi stai dicendo che il mondo è pieno di merda vabbè grazie nel senso è vero è vero il mondo è pieno di merda su tutti i fronti ma se mi stai dicendo che nel mondo c'è solo merda ti dico eh no guarda che c'è tanta roba bellissima e tra l'altro appunto ci sono dei eh oggi stiamo parlando di libri game ma più o meno con tutto ci sono dei sottoboschi interessanti e delle cose da delle cose da scoprire non a caso noi stiamo lanciando un book club il book club del futuro nel quale faremo ci tufferemo nel mondo della narrativa solar punk creando occasioni di incontrarsi nel mondo reale fate punto esclamativo futuro in chat per avere tutte le info comunque davvero c'è tanta roba bella ed è veramente positivo secondo me fare pagine come la vostra in cui si fa venire a galla questa roba perché il problema del sottobosco è che è sotto il bosco e quindi se tu se non c'è qualcun che si occupa di esplorare il sottobosco chi non ha il tempo di esplorare il sottobosco non viene mai a sapere che esistono determinate cose è un po' la stessa cosa che succede su twitch con i canali piccoli siccome la piattaforma non è molto propensa alla discoverability un canale piccolo per emergere deve avere quello che sia il boost dei canali più grandi che magari hanno la briga di andarlo a scoprire e quindi di dire ai propri c'è anche questa realtà che fanno cose secondo me ganze che mi possono piacere e cioè alla fine è sempre quello è un po' assurdo permettimi la lieve diciamo la lieve nota salata che in determinati sistemi produttivi e in determinate anche piattaforme bisogna diciamo lasciarsi andare alla magnanimità dei più grossi invece che provvedere diciamo uno scouting anche tra gli emergenti questo in generale nell'editoria nel mondo videoludica nel mondo dell'intrattenimento e dappertutto è un po' brutta questa cosa cioè è bello che ci siano dei grossi che vogliono farlo è un po' brutto che ce ne sia bisogno guarda io penso che il capitalismo ci il capitalismo che è quello che anima tutte le piattaforme su cui siamo perché Twitch Facebook Instagram è un sistema che come anche nel mondo reale spinge alla guerra alla guerra dei poveri quando invece e fa in modo effettivamente che se tu apri un canale oggi e anche anche se sei Umberto Eco se tu apri un canale oggi su Twitch rimani Umberto Eco con due follower perché è un casino è un casino emergere è il motivo per cui io vorrei tantissimo e almeno cerco nel mio piccolo di gestire il nostro canale così come l'underground del punk nel senso che abbiamo cioè io ho solo da guadagnarci se voi crescete voi avete solo da guadagnarci se io cresco perché facciamo cose affini spingia stiamo spingendo tutta la stessa pietra e secondo me cioè purtroppo non è neanche un problema di Twitch quello della discoverability secondo me è proprio un problema un problema del mondo in generale anche perché tanta gente fa cose e quindi è sempre più difficile emergere e a proposito ricordate cioè l'abbiamo già fatto ma ricordate i vostri canali noi non siamo un canale grande però qualcosina qualcosina lo smuoviamo se siete in questo momento seguite quali canali su Instagram noi trattino basso leggiamo che è la pagina che state vedendo qua anche su Facebook e su Google come noi leggiamo punto com e invece su Twitch Kerm trattino basso talks che sono io appunto e dove avviene diciamo poi su Twitch l'incontro tra le due realtà tra le varie cose appunto tra le varie cose che sono i conti fondamentalmente della programmazione abbiamo messo un pochettino tutti i link il canale di il canale di Kerm è Kerm Toilx il canale di Ari invece è Kerm Toilx esattamente c'è questo meme che Arianna sia la vera proprietaria del mio canale insomma perché diciamo ha molto potere decisionale su alcune cose sto piano piano conquistando tutta Twitch Italia perché ho iniziato anche a portare Libri Game dalle da inferi quindi piano piano eh ma infatti vedi anche anche in allora da un lato è vero che è deprimente il fatto che sia difficile venire scoperti ed emergere dall'altro secondo me proprio Twitch come piattaforma per alcune dinamiche che ha ha grande potenzialità nel momento in cui si inizia a ragionare come un'unità nel senso esatto nella sinergia nel lavoro sinergico per cui appunto ci si infatti devo dire una delle cose forse più belle che ci lascia l'esperienza di che giornata diavolacci come scrittura ma anche come pubblicazione è stato anche il grande affetto da cui siamo stati ricoperti da parte della community non soltanto nostra ma di Twitch persone appunto c'è Stilgar in chat che sono venuti a giocarlo da noi che ci hanno dato spazio nelle loro live come tu stai facendo in questo momento per parlarne è stato un bel momento secondo me anche proprio di community collettivo ora il fatto che fossimo noi protagonisti chiaramente lo rende per noi ancora più bello ma non era strettamente necessario il fatto di avere tutti quanti insomma tanti canali anche diversi come focus come ambienti anche come frequentazioni che si sono radunati tra virgolette attorno a un progetto che poi appunto aveva come fulcro forte centrale e anche forse innovativo la cosa di nascere proprio nei paradigmi di questa piattaforma su cui tanto stiamo e tanto ci piace stare tra gioie e dolori e quant'altro quindi è stato un bellissimo momento secondo me di community infatti è un ottimo esempio di come andrebbero fatte le cose su Twitch perché appunto è un ragionamento di ok stiamo facendo qualcosa insieme anche perché diciamolo è un lavoro gigantesco davvero un canale di Twitch se lo fai senza il supporto di altri canali cadi cadi cioè non è una roba non è una roba fattibile e questo è indipendente dalle dimensioni del canale anche perché assolutamente canali affini possono tenere community affini e se cresce uno di questi canali automaticamente cresce anche l'altro è un discorso lungo e complicato sì alla Games Week ci siamo ritrovati tutti perché eravamo io Kerma c'era veramente tanta gente sia di streamer sia di persone che ci seguono attivamente o meno attivamente è stato bellissimo perché in giro per la fiera ti dico io ho un senso dell'orientamento pessimo non mi sono mai ritrovata in quella fiera cioè tipo dove sei Ari io non lo so dove sono ma ovunque mi giravo c'era sempre qualcuno diceva Ari sei qua io ok mi aggrego voi poi li perdevo un attimo Ari sei qua e mi aggregava all'altro gruppo c'era sempre gente che conoscevo in giro che conoscevano me cioè era proprio bello perché in generale c'era tanta gente che ci voleva bene ci si voleva bene in generale quindi è bella questa cosa ma è il bello di Twitch che ci fa ricavare dei sotto insiemi del mondo in cui ci troviamo molto bene anche giustamente dice Stilgar in realtà non serve nemmeno che dei canali siano affini cioè basta che i canali siano affini per spirito poi io posso trattare retro gaming tu puoi trattare i sports ma l'affinità è un'altra l'affinità è un'altra cioè per me ti chiedi di quale fira parli perché io sono così a Lucca era la Gamesic giusto Ari? sì esatto infatti abbiamo fatto un firma copie perché il nostro libro era uscito una settimana prima ma allora chi è riuscito ad averlo ci si è messo sotto la pioggia a fare sì sì no c'è stato c'è stato un momento bellissimo nel tardo pomeriggio in cui ci siamo messi tutti quanti fuori nello spazio appunto tra i due padiglioni all'esterno che è stato anche un po' il mondo di ritrovo di tutto questo sottobosco anche mi piace la parola sottobosco perché la uso spesso anche io di questo sottobosco di canali e nel mezzo dopo le varie foto di Rito e quant'altro tutti quanti hanno tirato fuori la copia del libro tutti i libri muniti e io e Ryan abbiamo iniziato a improvvisare questo firmacopie utilizzandoci anche come scriva Nievi cedevolmente quindi in una situazione molto molto particolare però è stato veramente bello è stato veramente appagante e posso dire non mi aspettavo una cosa del genere non se me l'avessero detto quando abbiamo iniziato quando abbiamo iniziato a marzo a lavorare su questo libro che poi ci saremmo trovati a novembre con tante veramente tante in proporzione diciamo a quella tenuto a punto che siamo partiti dal zero non siamo né nomi altisonanti né avevamo dietro dei mezzi o di produzione o una architettura a livello appunto di case editrici ok che potessero sponsorizzare il progetto se mi avessero detto e ci saremmo trovati con così tanta gente in proporzione ai nostri numeri a quello che facciamo entusiasta e supportante questa cosa non ci avrei mai creduto non ci avrei mai creduto benissimo benissimo allora io direi che allora io purtroppo oggi devo lasciarvi un filino prima del solito perché mi hanno fatto allora mi sono svegliato alle sei io normalmente sempre per la cosa cosa vuol dire avere l'impegno fisso dello streaming avevo una traduzione da fare per questa mattina tu puoi indicare tutte le cose che vuoi infatti avevo una traduzione da fare mi sveglio alle sei per fare questa traduzione in modo di ok tra le sei e le sette faccio la traduzione tra le sette e le otto faccio le grafichine per il canale e poi e poi via il file che dovevo tradurre non c'è non c'era non c'era ma la consegna è comunque oggi a mezzogiorno e quindi oggi mi e quindi ho dovuto mi sono svegliato ho fatto colazione ho fatto colazione con calma ho fatto le grafiche però oggi purtroppo mi tocca lavorare c'è qualcuno davanti agli alert scusatemi e ah le gioie del freelance puoi dire molto 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 forte in economicon però insomma non mi posso non mi posso nemmeno lamentare però ecco normalmente chiudo verso mezzogiorno oggi chiudiamo un filino un filino prima anche perché se devi tradurlo per mezzogiorno chiudere a mezzogiorno la vedo io sono un fulmine sono un fulmine però palastito la famigerata consegna per ieri palastito sì sì ma no in realtà era una era una consegna con dei ritmi tranquilli tu mi dici devi fare una roba per lunedì però se poi non mi dai il file e io no effettivamente ma manca la materia prima esatto è come se tu mi dicessi devi pagarmi per una prestazione e poi non mi dai l'Iban e mi dici io voglio anche pagarti per il lavoro che fa ma se non ho l'Iban come faccio comunque grazie Ari grazie Kerm seguite grazie scusatemi ancora per il disagio iniziale ma vai tranquillissimo se state vedendo tutto questo su youtube potete cercarvi che giornata diavolacci potete visitare e seguire su instagram noi underscore basso leggiamo e seguire il canale di Kerm talks qua qua su twitch e evviva 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 ciao a tutti in realtà saluto voi e faccio la chiusura dello stream grazie mille per questa giornata ma figurati va bene scusami se sono stato un po' un rintronato sull'organizzazione di questo evento Ari perché non ti preoccupare capita comunque che no che no appena vuoi appena puoi invitatissimo da noi sul libro game un giovedì assolutamente voglio dire a questo punto voglio dire ci farebbe molto piacere quando vuoi amici amica amica amico e amici in chat ci vediamo molto presto ciao 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 ciao